ryan mark parsons ha emesso il suo verdetto sa l'incoronazione del re che secondo lui è stato segnato da una tragedia dopo che il concerto è stato gettato nel caos dopo che le celebrità di serie a si sarebbero ritirate del tutto ryan mark parsons ha commentato il giorno dell'incoronazione di carlo 6 maggio mentre migliaia di persone accorrevano per le strade di londra per vedere il re e la regina appena incoronati e un picco di pubblico di oltre 18 milioni guardato a casa l'ex star di apprentice che attualmente interpreta il ruolo di joy vitale nella commedia tony n tina's wedding ha condiviso i suoi pensieri salin coronazione del re al platinum jubili della regina elisabetta seconda nel 2022 una vasta gamma di star è salita sul palco per il platinum party at the palace tra cui sor elton john sorrod stewart queen e adam lambert alicia keys andrea bocelli george esra e diana ross prima che charl confermasse artisti del calibro di katy perry e take that per il suo concerto di coronation molti erano preoccupati per il numero di star che avrebbero rifiutato l'offerta di esibirsi secondo rapporti precedenti cantanti tra cui adele ferry styles spice girls kylie minogue robby williams e sor elton john hanno tutti rifiutato gli inviti a esibirsi ryan mark ha in gran parte attribuito questo fatto agli allist che hanno svegliato i fan in questi giorni poiché ammesso che è stato un peccato che più artisti britannici abbiano rifiutato il concerto dell'incoronazione mentre elogiato il re carlo e la regina camilla nell'occasione celebrativa in un'intervista congiunta con ben of wedu ha dichiarato in esclusiva a express.co.uk molte celebrità penso che sia stato chiesto di esibirsi a ferry styles e pochi altri potrebbero aver rifiutato l'opportunità di esibirsi al concerto perché hanno ascoltato i loro fan svegli che hanno circa 13 anni e tutti odiano il re perché pensano che sia di moda in un'intervista.co.uk